Il PD all'attacco della senatrice leghista Lucia Borgonzoni, candidata per il centrodestra presidente dell'Emilia Romagna, dopo che la Cassazione ha revocato l'obbligo di dimora nei confronti di Andrea Carletti, il sindaco PD di Bibiano. Carletti ha indagato per lo scandalo Angeli e Demoni sul presunto sistema di affidi illeciti di minori scoppiato in Valdenza, in provincia di Reggio Emilia, nel giugno scorso, quando il politico venne arrestato. Borgonzoni dovrebbe chiedere scusa, ha detto Stefano Vaccari della segreteria nazionale PD. Abbiamo ancora negli occhi l'immagine vergognosa della maglietta indossata nell'aula del senato. Dovrebbe porgere le sue scuse al sindaco Andrea Carletti. Sulla maglietta c'era scritto parliamo di Bibiano e Vaccari ha aggiunto Ora, cara Borgonzoni, parlatene voi di Bibiano se avete una dignità e fatelo per chiedere scuse e dire che avete giocato con la vita di una persona. Duro anche il segretario del PD Nicola Zingaretti su Twitter. La campagna indecente contro il PD e il sindaco di Bibiano non si dimentica. Chi chiederà scusa ad Andrea Carletti? La giustizia sta facendo chiarezza con il nostro sostegno. A chi ha utilizzato una storia di cronaca per una campagna politica dico nuovamente vergognatevi.